E' un uomo o una bestia? Sono pronti a offrire a voi un'ultima occasione di testimoniare la sua suprema stranezza. Da dove è sbucato? Generato dalla stessa minacciosa lussuria che ci ha portati tutti su questa terra, ma che si è guastato nel grembo materno. Inadatto alla vita! E' una bestia o un uomo? Siete fortunati perché stasera vedrete come si nutre. Affrettatevi e scopritelo! E' un uomo o una bestia? No! E' un uomo o una stessa! Grazie.